Buonasera, due parole per Positano News, il giornale locale e le vostre impressioni per questa serata eccezionale. Credo che sarà una bella serata, è una garanzia ovviamente di professionalità, di grande musica e mi pare che sia un bel inizio del Festival di Ravetti. Credo che Mauro Perigori abbia lavorato in maniera eccellente, la regione si sente garantita, sapete lo nomiato commissario, sia per la sua professionalità sia per un'altra ragione, per saltare completamente sulle situazioni territoriali. Ma noi sappiamo per certo che voi avete profitto molte energie dietro a questa organizzazione, non lo dite per la vostra grande e saggia unità. Ma è vero che dobbiamo essere garantiti perché quando si investono risorse importanti poi dobbiamo stare sereni, avere un bel evento e avere grandi professionalità. Credo che il Fabriore sarà una garanzia per voi. Grazie a tutti.